Ciao ragazzi, io sono Emanuele, se non mi conoscete io recensisco libri, film, serie tv, ristoranti, insomma un po' tutto quello che mi capita, mi piace raccontare quello che penso di quello che ho acquistato, mangiato, letto o visto. Quindi se siete alla ricerca magari di un canale dove poter vedere recensioni di un libro che avete visto e che magari non sapete vi possa piacere o magari di un bel ristorante dove andare a mangiare con il vostro partner o con amici, parenti o semplicemente se volete passare una serata spensierata sul divano a guardare un film o una serie tv, io posso aiutarvi. Cliccate sottoscrivi, la campanella così magari ricevete le mie notifiche e rimanete aggiornati con tutti i miei video. Io spero che i miei video vi piacciono e se qualcosa vi può essere d'aiuto potete anche commentare in modo da farmi le vostre domande. Vi abbraccio e spero di vedervi presto, ciao!